E' ricchi per tanto ricchi! Ricchi sfondati! Sicuramente il ricco sono io, lui è assolutamente sfondato! Ce lo regalare un milione per uno? Un momento, un milione! Quanti ne siete? 8! Ce l'hai 8 milioni di piccoli? No, in questo momento no, però possiamo rivedere. Io ho un pacco di 800 mila vive! Ahhhh! Fate 100 mila vive per una! 100 mila vive per ciascuno! Bravo, grazie! A chi le devono consegnare? A me! Dopo, eh! Ma tu sei scusato! Eh, si, purtroppo si! E com'è la moglie? E' più carina di noi? Ragazze, voi conoscete la peste bonbonica? Eh! Mia moglie è la peste bonbonica! Allora è brutta! Eh, brutta, via brutta proprio, non esageriamo, via! Brutta no! E' racchi, racchi! E' forse soltanto la racchietina! E' antipatica, e' avara, e' tirata, e' nevrostenica, si chiude tutto, si conserva i soldi, e non penso che un giorno o l'altro deve morire anche lei! Ed io non vedo l'ora che crepa, perché quando crepa, io come marito consorte, e' reddito tutto! E non pensiamo a queste manicorie, facciamo un brindisi! Un brindisi! Un brindisi! Il primo brindisi lo voglio dedicare a mia moglie! Moglie mia, io non so dove sei, ma ovunque tu sia, io faccio un brindisi alla facciaccia tua! Un altro brindis! E' la salute mia! A parole di Parmieri! Elara della salute di Parmieri! Grazie!